Sport come divertimento, fair play, gioco di squadra. Sono alcuni valori che il Panatron da anni promuove nelle società e che da oggi vengono condivisi dalla regione grazie al protocollo d'intesa firmato questa mattina a Genova. La dichiarazione, che promuove l'etica nello sport giovanile, è la sintesi di due documenti, la carta dei diritti del ragazzo e la carta dei doveri del genitore, e punta ad essere un modello per tutta Italia. È partita da un'idea proprio Ligure, si sta divulgando sempre in Liguria e anche in altre regioni italiane, anche il Piemonte ha firmato questo tipo di protocollo d'intesa, a breve dovrebbe essere l'Umbria, e più che altro i club del Panatron trovano dei proseliti, trovano delle società interessate a avere questa patente etica perché è un plus in più. Oggi purtroppo sembrano davvero troppi gli esempi di comportamenti scorretti nello sport, dentro e fuori campi da gioco. Ora, la dichiarazione siglata questa mattina sarà portata nelle società sportive della Liguria, che verranno chiamate ad impegnarsi almeno su tre fronti, elaborare i programmi di allenamento che favoriscano la socializzazione, eliminare ogni forma di discriminazione, aiutare i genitori ad evitare comportamenti negativi. Leggere sulla carta che i genitori si impegnano quando i ragazzi arrivano a casa, non a chiedere quanti gol hanno fatto, se hanno vinto o perso, ma se si sono divertiti, se sono migliorati, credo che non potessero essere principi non condivisibili da questa amministrazione, e sono in linea con quello che ritengo questa giunta ha già fatto sullo sport.